Ci troviamo alle polidistillerie, ci troviamo su una strada importante che è la nostra Morosticana. Ci troviamo in un posto che ha tanta storia, che nasce 120 anni fa, grazie all'intuizione, a un'idea genio di Giobatta Poli, che si inventa di aprire un'osteria, l'osteria al cappello, qui sulla Morosticana, proprio in corsimità della fermata del treno, la Vacamora. Giobatta, grazie all'osteria, appunto comincia a distillare e ben presto ne viene affascinato, ne capisce le potenzialità, porta avanti la distribuzione e soprattutto trasmette la passione al figlio e alle generazioni a seguire e quindi crea una storia. Oggi siamo alla quarta generazione, la generazione di Jacopo, Barbara, Giampaolo e Andrea. Prima la grappa era un distillato che serviva per riscaldarsi d'inverno, un corroborante, era qui da noi, era quasi un alimento, era un pasto. Oggi è un prodotto da degustazione, è un prodotto che regala un profilo aromatico, regala i profumi di un vitigno, di uno stile di un distillatore, di un metodo di distillazione. Oggi distillare è un'arte che si è raffinata moltissimo, noi lo facciamo con tre alambicchi differenti, distilliamo come la prima ora a vapore, con le caldaiette, distilliamo a bagnomaria e distilliamo, unici a farlo, a bagnomaria sottovuoto. Quindi questa ricerca di eleganza e di fragranza è un minimo comune denominatore che portiamo avanti da molti anni. Oggi si può suddividere la nostra offerta di distillati tra distillati che sono stati affinati in legno, quindi con i profumi anche dell'affinamento, prodotti che regalano gli aromi primari o secondari della materia prima, quindi diciamo i prodotti giovani, e poi abbiamo le infusioni, l'idea di avere un elemento terzo che in infusione mi regala qualcosa d'altro, un altro profilo aromatico, quindi più sull'arbaceo, più sul floreale, sul frutto. La nostra produzione oggi conta 45 diverse offerte. Si sviluppa tra grappe, sia affinate in legno, giovani, aromatiche, distillati di vino, distillati d'uva, distillati di frutta, gin e gli elisir. Il nostro prodotto più rappresentativo è sicuramente Sarpa e avremo molto di cui parlarne e per farlo raggiungerò Mauro nella prossima puntata.